signor giuppo giuppo sappi che il microfono è mutato se stai parlando eccolo eccolo facciamo sta missione di merda che è l'ultima di sto world di figa io non ti accompagno se lo zora magdaro se te l'ho già detto prima tanto è singola come è singola è single player questa no fidati non è single player allora io sparo un razzo s o s dopo poi se morrai la tua coscienza sarà la mia coscienza è a postissimo cosa cazzo devo fare io andare lì sotto parla con il segugio povero cristiano cane tu sei entrato in sessione di squadra vero? si molto bene e io sto joinando quindi non ci sono stati problemi e allora io quasi quasi è che dopo c'è un bel gran jagras subito grado maestro da fare succulento ma mi sembra dopo di questa ci sia il primo il gran jagras maestro ma che stai dicendo? poi il top in cadaci si lo xenojiva secondo me è già Iceborne ma va figurati lo xenojiva era l'endgame della storyline di world sei sicuro? oh yes hai voglia guarda prima di passare ad Iceborne non volendo ne hai di roba da fare e allora io quasi quasi ti rompeto dai bla 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 sai quanto non hai da parlare lì? ne hai fino a che non muovo incarico speciale in arrivo parla con il Segugio ho raggiunto la sessione di Ro 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 No Azzor non si può cambiare il nome ma perché dovresti? mi cringe un po' vabbè ho capito ma in teoria non so se beh so che puoi cambiare l'aspetto però non so se puoi cambiare anche il l'aspetto il nome del capito? si si che c'è il buono vabbè nel frattempo che tu fai quello io vedo se ho delle facoltative da fare molto 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 no no gli eventi facoltative allora ho una missione effettivamente devo catturare un bugzel vulcanico e dai mamma mia un altro mostro simpatico simpaticissimo simpaticerrimo oh devo ricordarmi che devo catturarlo vero? allora il bazel vulcanico dunque guido i mostri grandi bazel vulcanico è sensibile al ghiaccio molto bene organizza oggetti equipaggiamento prima di tutto equipaggiamento che servirebbe la mia spadona che è di ghiaccio guarda è quella tra l'altro non so dico cos'è che è ma io ho una mi ricordo sex e nogiva o vulcana io per ogni elemento ciao sodier come stai per ogni elemento io ho l'arma è l'equipaggiamento che dici buon sodier tra l'altro penso sia l'unica spada che ha la filatura viola ah l'acutezza l'acutezza scusa eh beh ma vedrai che troverai molto meglio di viola non c'è niente sopra il viola non c'è niente mi sa si c'è il bianco no bianco è sotto il viola ah davvero ah giusto c'è il blu blu bianco allora dovrei cambiare dovresti cambiare gioco in live non si è cambiato sicuro sodier a me lo dava a me lo dava già aggiornato ma se non sbaglio anche il moderatore può cambiare la categoria eh solo se gli do un una cosa in particolare adesso non so bene come si gli schiaffi li devi dare gli schiaffi ai moderatori uomini ma certo ma certo sodier io porto farmi in simulator ogni tanto quando ho bisogno di iniziare diciamo che come intro lo porto allora perché ti dispiace se porto farmi in simulator eh brutto stronzo cei da dire contro farmi in simulator non so se ma si me li porto vai baccelli merda che non ci sono quanto aggressivo oggi so dire che ti sei svegliato male come va lo studio so dire ti sei riposato un po c'è ragione tu e lo che oggi va di l'ultimo a devi già farlo adesso allora niente annullo la missione ti vengo a dare una mano grazie allora lo xenogiva mi sono svegliato e vabbè ho capito madonna tantissima preferivi svegliarti freddo sei leopardi allora lo xenogiva e due di tutto quindi fondamentalmente portati l'arma più forte che hai deciso qua il difensore quindi allora non hai problemi allora io verrò invece con vediamo un po qual è l'arma che fa più danno dovrebbe essere la drago 684 420 420 è sempre un bel decisamente la drago è la più forte se la drago è la più forte che ho molto bene mantello vitalità non me ne frega un cazzo veniamo con il mantello stabilità gioielli attacco resistenza ma massi che cazzo me ne frega grazie agli oggetti sta benissimo così fatto giusto un paio di volte ce la città non sono freddo anche sotto un cipresso non sarebbe un cipresso ancora un po di mal di gola bambini di merda è insomma è più facile prendersi da malattie magari negli asili o nelle scuole materne piuttosto che in ospedale cazzo allora unisciti a missione missioni disponibili in cariche convergenza di energie i ptp devo fare i talismani quali hai adesso nessuno come nessuno neanche quello che ho vita vitalità ciao chaos quello della salute non ce l'hai non l'ambuleto talismano ho capito ma i primi due ce li hai sì no no neanche quelli allora va buono vabbè poi andiamo a farmarci il buzzer per gli speroni o scusami non ho messo pronto ce l'hanno detto la prima settimana tutti stanno male se ha voglia ma anche quelle successive il fatto è che sti cazzo di bambini sono veramente delle fabbriche di germi è assurdo merda 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 sto arrivando sto arrivando non mi morire ho recuperato il buon fallen order che aveva recuperato ai suoi tempi per ben 20 centesimi quando lo davano col prime ustia madonna sono appena arrivato questo già proprio portato in bocca al botto allora concentrazione perfetto ma stai buono sussulta guarda come gira in tondo oddio no ok stai fermo lì? molto bene bene che cazzo ti urli? ho rotto la p***a te la taglio con la coda di m***a guarda bastardo guarda bastardo minchia questo gli farà male e infatti dai ben set mi hanno spezzato le gambe mi hanno spezzato le gambe oddio no ah se ne va? buono baccelli baccelli raccogli i baccelli raccogli raccogli ma no non ho fatto in tempo che fa? che parte si gira? ah eh cazzo lo so ahia ha tirato una uno schiaffo sembra ronando il fenomeno che gli faccia dribbling in mezzo ai piedi oh oh gli hai tagliato la coda gg cazzo oh si rispondo bastardo io ho cotto un attimo la coda bastardo vieni a prenderti la coda poi ce l'ho fatta? sei ce l'ha fatta ok ma non ce l'hai più la coda stai fermo che l'ho fatta che l'ho fatta che l'hai più la coda ne che l'hai più la coda che l'hai più la coda Madonna ma stai fermo un secondo Madonna che succeso Ok Aspetta che è un baccello Molto bene Mi chiude la grande Oh si Beccati sti 4-6-4 Aspetta che prendo altri baccelli Devi mollarmi un po' Dai vieni giù non Ma dai E niente non si stordisce Sono ancora riuscito a prendere la cosa E la devi cotare due volte Merda merda Aspetta 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 Mi do una curetta Bellissimo Oh si Boom Eh che c'è la testa rotta Nooo Si Uh 530 Oh è paralizzato Oh è bezzo di merda Oh si E' che lo stiamo sciogliendo Si si ormai A vegeta Nooo Ha spostato la testa Noo bastardo E' che devo caricare lo scudo Oh si Oh si Oh si Coda Bastardo Bastardo E' una zampa rotta Ahia Ahia Ma cello buono Bello in faccia Questa Occhio! Dovevo coccarare un attimo Porca puttana proprio addosso gli son gli arrollato Alla zampa Eh vaffanculo Oh sta morendo ma Stai fermo Un secondo Oddio ti curo ti curo ti curo ti curo C'è la Vigor Vesta Eh non ti fidare del Vigor Vesta Devo coccarare Ti prendo bastardo invece no Guarda com'è rotola Ti salto in bocca Se riesci Vai Oh No mi salto male No Adesso si però Adesso ti salto in testa No bastardo Invece Ancora la coda Ce l'ha con te? Eh Grappato Un pezzo di merda Olè Senza provviso All'improvviso Ehi collega Ehi collega Minchia Ho il piaccio Della annoying apple Cazzo Annoying orange Ehi mela Ehi mela Ehi mela Mi hai rotto i coglioni Allora Ora finisco il gioco E sto giocando Ma fallen order Poi Mi gioco fallen order Fallen order E poi lo rigioco Su ward i mostri Hanno più Gli Hanno gli sbalzi di pazzia Sì sì Fuori di testa Uccidi il puntini puntini Dunque tu che livello sei? Adesso dovrei fare un balzo in avanti Di livelli In teoria Sì Qua c'è qualche No Residio Io giocando con te In questo caso Tipo non uso Né rampino Né niente Per il momento Dici ma non ce l'ho bisogno No beh ovvio Oh no Rattattattà Sangue di dragonzia Come stai Che oscaro conti di bello Ehi collega Eh Ehi collega Ehi collega Ehi collega Hai rotto il cazzo Minchia Non la sopporto più Ehi collega Voglio andare a Sediana Non voglio stare qui Allora Vediamo un po' Dimmi tu che c'hai da fa' Aspetta che Carica Che io ho una PS4 Del 2014 Sì beh io la PS4 Pro Non è che sono messo Tanto meglio Allora Beh insomma Credimi Non è molto meglio Purtroppo Ho avuto sia PS4 Che PS4 Pro Che PS5 Eh non giochi da PS5 Non più A febbraio si è bruciata Bene Bene Sì sì Dai 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 Esattamente un mese e mezzo Dopo la La fine della garanzia Incredibile Ecco Zimber Per colpa di Nioh Tra l'altro Si è bruciata Nioh? Sì stavo giocando a Nioh Esplosa Sì sì Sono un figo Grazie Ciao Ah sì minchia Adesso dovrei parlare con tutti Qua No non è vero Non ho ancora Quella missione Eh sì Blah blah Piripipipi Piripipipi A breve farò anche Lo shot autino Ad Ark Mentre aspetto Che tu fai le cose Che devi fare Vado a scaldare Un caffettino arrivo il schibitissimo vada vada vadi lei mi tenga aggiornato nel frattempo yes dai dai si si bla 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 super mega caffè facciamo metà tazzina così ne tengo già un po' per dopo caffè della mocha? si si io ho la caffettiera da 4 la metto su poi da quella caffettiera lì ci faccio uscire 6 caffè invece di 5 perché alla fine ne metto poco nella tazzina mi sono andato espresso mi sono preso la macchinetta che macina il caffè prendo il caffè in grani e via quello è sicuramente tutta un'altra roba rispetto alla mocha però già la mocha è buona si sono due caffè diverse poi dipende anche un po' il caffè che ti macini oh grazie mille Sodier lo bevo proprio now vediamo un po' se ti ha sbloccato il livello sei il livello 16 adesso madonna 195 devo aver giocato un po' eh beh tu praticamente con sta roba del difensore ah però comunque hai solo la spada del difensore poi per il resto non vai in giro con l'armatura del difensore madonna ma c'hai ancora la roba di cuoio ma tu sei matto ma come dovrei avere anche l'armatura del difensore guarda la live ti giuro io ti vedo quella roba di cuoio come mai scusami mamma mia sti filmati che non si possono saltare eh sì effettivamente è un po' una rottura di cazzo cioè tu pensa a chi magari l'ha già finito e non gliene frega un cazzo di vedere filmati eh sul pc c'è una mod per saltare i filmati che è l'unica che ho installato ti rendi conto che devi installare una mod vabbè lasciamo perdere eh l'unica cosa che c'è di bello su Rise è quello che puoi saltare i filmati madonna meno male che non c'è Sara dove vai Soldier dove vai dove fuggi dove mi scappi nel frattempo facciamo anche uno shot outino a dark trattino basso trattino basso 90 oddio ho sbagliato ragazzi era 89 non mettete il follow a questa persona non so chi sia presento le persone a caso adesso adesso sono curioso e vado a vedere sul telefono allora vediamo se esiste veramente qualcuno che si chiama così e se te l'ha fatto fare perché esiste ma puoi anche fare puoi anche fare lo shot out a sto cazzo volendo oddio esiste davvero che palle no no non esiste attenzione non esiste no no esiste esiste a me non l'ha trovato come l'ho scritto io zero follower ma porca puttana una volta le facevo anche io le live su twitch ah poi mollato ah cosa facevi di bello isaac good legend battlefield 4 battlefield 1 oddio ho creato ho creato un è scattato la mora attenzione come le formiche che metti il dito isaac è quale afterbill plus e repentance ah pure repentance ah ma allora non è tanto che hai smesso di fare life no perché ormai è già due anni che è uscito repentance sì io fondamentalmente non sento il trascorrere del tempo e quindi è possibile che dica un sacco di cazzate perciò tra l'altro era uscito proprio aprile se non sbaglio verso fine aprile 2020 o 2021 non mi ricordo non ne ho idea sono davvero veramente stronzo come su monster hunter che ce l'ho sia su pc che su playstation come me per rocket league ma in realtà sai che avendo riesumato la psp no la psp la ps vita sono andato a guardare un po' i giochini che ci stanno c'è un monster hunter non mi ricordo il nome che era quello per la psp probabilmente che è lì che costa 10 euro ma non non so a parte il fatto che non voglio spendere 10 euro per un monster hunter però comunque è lì che mi guarda però fondamentalmente sto sempre a giocare in live quando gioco cioè dove ci gioco quando sto al cesso cioè io spero che la capcom capisca qualcosa e faccia un world 2 questo cazzo di rise ma da quello che ne so world è stato molto denigrato dai giocatori abituali di però è stato matissimo da tutto il resto esatto dai giocatori di playstation e di pc è stato matissimo e tuttora penso sia cioè non so se hai mai visto rise però è molto portable no cioè è stato è un porting esatto è un porting non un portable si fatto per portable poi hanno fatto il porting su computer però tecnicamente quel monster hunter è molto più monster hunter ciao falter si siamo su play si si è molto più monster adesso hanno fatto anche monster hunter go ho un amico che continua a rompermi il cazzo dai dai ma mollami ci ho già buttato via abbastanza tempo ma non è una brutta idea non è una brutta idea perché si ma sono tutti uguali quei giochi lì si lo so però capisci e quell'altro e quell'altro sono tutti uguali allora l'unica pecca è che sarà una moda che durerà uno o due anni e poi la gente si romperà il cazzo perché è come pokemon go stessa cosa posso unirmi a voi per qualche caccia allora intanto se ti vuoi unire alla gilda sei il benvenuto l'unica regola che mettiamo è che se andiamo a fare mostri di world vieni con una build adeguata non una endgame di iceborne eccetera eccetera per esempio io adesso sto andando a dare una mano non ho ancora finito tutto iceborne non voglio spoiler mi raccomando allora se mi puoi mandare intanto la richiesta d'amicizia Faltor che poi ti invito anche in party se vuoi e poi ti invito in sessione quanto durano sti titoli di coda puttani ah minchia ne è 40 minuti circa no spacco il gioco giuro comunque l'unica cosa che dicevo di negativo è che si creeranno di nuovo gli wombie non so se hai presente cosa sono gli wombie sarebbero gli zombie che camminano praticamente col cellulare con la testa piegata sul telefono e cammini per cercare i pokemon o i monster chipesnaus scusami falter chipesnaus come il canale è così comodo il fake gps te penso che il primo ride che sono andato a fare di pokemon go con un mio amico qua a brescia era un ride di ho ho primo ride che faccio ho shiny subito io non credo ci ho giocato per un po' nel senso che ogni tanto lo accendevo grazie mille falter adesso ti accetto immediatamente però una volta che ho visto come erano i combattimenti ho detto ok basta si no è una puttanata devi cliccare sullo schermo allora intanto accettiamo la richiesta di amicizia allora aggiungi gli amici inserisci nel gruppo monster hunter world poi parti aggiungi giocatori elenchi personalizzati monster hunter world oh ecco qua poi invita un amico aprire la schermata elenchi personalizzati monster hunter world falter eccolo qua perfetto giusto in tempo comunque iceborn mi mancava l'ultima missione si praticamente si vabbè ma mica vuoi iniziare direttamente iceborn ti vorrai fare qualche ma si c'è ancora un casino di missioni ma anche quelle stupide tipo raccogli venti cactus nippolo quelle robe lì vabbè quelle te le vai a fare per i cazzi tuoi vabbè ci mancherebbe sì sì entro pure in party tranquillo mi raccomando mi raccomando ricordati che sei in una live bestemmie che non si possono dire le bestemmie si possono dire però mi raccomando tutto il resto hello buongiorno come va come va allora intanto adesso controllo subito mi sapresti dire se per caso hai consensi a trasmettere la tua voce giusto per nel senso che ci sono non so neanche se li ho sinceramente ciao ne vada aspetta ne vada tu senti delle persone insieme a me anzi facciamo così guarda ok quindi giù un po' tu ce li hai ok ala ha raggiunto la sessione e la sessione è una cosa diversa si tu non hai consensi stavo controllando adesso come stai ne vada se c'è voglia di attivarli se no a tua scelta felice di vederti lasci così ok va bene va bene va bene allora no ma guarda tanto io non guardo non ti preoccupare io non guardo quello l'importante è non io ti dico tu sei sicuramente mi sembri uno che dividi a questo punto di Monster Hunter se lo mangia a colazione tanto che lo conosce ti dico io sono arrivato a Rajang o su Iceborne o catturato per la prima volta il Rajang quindi da lì in poi non so niente però vai tranquillo per le build io non guardo il tuo personaggio l'unica cosa è cioè sistema un momento allora adesso io sto andando a dare una manina al buon Zoro intanto ti invito in squadra perfetto il giocatore è stato invitato molto 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 bene si sento le voci mi devo preoccupare no no non ti devi preoccupare che mi racconti di bello un po' che non ti si vede punticini probabilmente dovremmo andare a fare qualche drago anziano qualche tempratino qualche temperato mi sa che però i temprati attualmente tu non puoi ancora farne no no posso li ho visti li ho visti si però giusto l'altro giorno di livello 1 tipo il mi sta chiedendo troppo adesso si perché per il livello 2 ti serve il livello 30 di cacciatore mi sembra che erano i pavolomo eh si vedi sono di livello 1 è il livello minaccia intendo sì 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 piripiri 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 è arrivato l'invito signor aleph grado 16 già vabbè in caso guarda in caso se ti crea problemi cioè ti metti la build del difensore ah buona minchia ottima ottima la draken sì devo dire allora che ti sei farmato ben bene world prima di iniziare iceborn allora io ah ma perché ho lo stile armatura di merda ecco perché che bella la merda no elmo del guardiano alfa so coraggio del guardiano parabraccio del guardiano 160 giorni di malattia la madonna ma ne vada scusa ti posso chiedere che cazzo ti era successo che non mi ricordo più minchia 160 giorni di malattia ma abbiamo mai approfondito che cazzo ti era successo perché mi sono proprio letteralmente scordato mi ricordo di chilometro perché ti dice che ho sulla roba di cuoio se ho su quella del guardiano alfa è quello che ti dicevo prima che io ti vedevo con la roba di cuoio la roba di maglia tu sei sicuro di avere la roba sì cazzo ti ho visto che avevi la roba del difensore ah vabbè ma non importa allora vediamo un po' se sei entrato nella squadra io devo parlare con qualcuno qua sicuramente infezione all'interno dell'aspira dorsale minchia ma ma se è risolto ne vada come cazzo ti è uscita sta cosa allora eccolo qua oh beh insomma non sei un 999 comunque ma sei un pischello sei giovane giovane cosa hai 17 anni vabbè dai insomma non è che più o meno vabbè dai sei comunque un pischello in confronto a me a giupo che bello avere 23 anni quelle informazioni sono vecchie di 6 anni non l'ho mai cambiato ecco non ci ho mai avuto anzi dovrei mettermi lì e aggiornare un po' insomma ho 36 anni io comunque allora eh vabbè meglio si è risolto che il mio culo è diventato un puntaspilli minchia a giù di iniezioni nel buco del culo ne vada tanna oh comunque l'importante è che non ci siano conseguenze gravi insomma si è risolto insomma è una cosa che porterà conseguenze o adesso sei a posto cioè come cazzo è uscita questa infezione chiedo domando per ignoranza un'infezione all'interno dell'aspira dorsale sai cosa dovrei fare finire i titoli di cosa no li ho finiti ok sacca acquatica e giratodus alto grado let's go guys sai che non ho una taglia del aspetta che mi guardo ah però il gira gira dovrebbe essere livello minaccia 1 vediamo se ho un temprato vediamo 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 eh lo so io Ale ti porteremo a fare roba un po' insomma nel chilling però comunque sappi che ci sono persone in questa gilda adesso ci siamo solo noi perché è mattina però comunque c'è gente che va a fare roba di iceborne cazzuta quindi insomma allora taglie del gira gira davvero ah ma che coglione che sono aspetta ma forse ne ho aspetta allora nuova missione basso grado alto grado taglie perché io l'avevo ah scusa 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 cosa mi fa ridere whatsapp potresti avere dei messaggi non letti che cosa cazzo e leggili allora ma non li ho allora attualmente ho ah ecco guarda 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 ce l'ho ce l'ho vai intanto siamo in tre andiamo direttamente all'accampamento undici parla con il compagnone della quinta madò è mitico il compagnone compagnone eh sì ne vada ti capisco ti capisco se calcoli se calcoli che alla fine io ho già venticinque ventisei anni avevo una cervicale che faceva invidia a un ottantenne porca troia vado a mania vado a mania allora allora il gira gira è un caccia ho messo un caccia così almeno non abbiamo problemi che cazzo è il gira eccolo qua tuono drago chi ha il madone che rompe i coglioni vengo col tuono tuono nel tuono sono gli occhi pulisciti missioni caccia accampamento 1 6 15 ma io sono andato all'11 tanto poi vado con il taxi ah già che tu hai i tuoi amici feline eh certo hanno insegnato l'arte del cavalcare eh certo mi porto anche qualche ah guardati poi per farti la ah no comprati scusa prova dimmi no volevo dirti di comprarti talismani mannaggia a te ah già 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 dov'è che si prendevano da centroscorte un qualsiasi centroscorte io mi faccio un caffè ma ci sono oh vuoi venire a giocare anche tu ne vada centroscorte è quello mercato no eh sì quello davanti al centro di coordinamento sì 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 se sei ad astra scusa ne vada ok acquista borsa talismano della minchia eh costicchiano io dovrei avere sia trappole che me le porto sempre quando sacca acquatica per colpo io mi giro una siga sì sto facendo anch'io mentre aspetto cartine usi tu rift la corte grigia le corte spererei se non ti riesce una seicentos sì della fiat tra l'altro io rizza manatura che colore sono quelle di canapa grezze ah quelle gialle tipo sì Havana se vuoi essere preciso si chiama quel colore ok che è il colore cartone praticamente sì sì io una volta ho provato quelle a colla di pesce mai più quelle trasparenti quelle che sembrano di gomma sì ma quelle vanno bene per fumare altro non le sigarette ah io boh erano lì ho detto vuoi provare questa proviamola allora ci sono per guardare questo gioco ma non è il mio genere per giocare davvero ne vada mi fai male al cuore guarda non uso neanche i sieri perché fondamentalmente ha subito qua così ti ha ti ha cagato lì ma sì che te ne fai non credo sia un problema oh provo a cavalcarlo signori eeeh non ce l'ho fatta merda merda ma deve essere vuoi spostare guardato ma stai buono odio un buzzer che cazzo fa lui qua che mi è venuto in mezzo a cazzo mentre li stavo rampinando l'altro dai dai dicchialo un po' vai 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 che l'ho l'ho riempito di merda dove è andato l'altro ah eccolo qua questo era uscito dall'acqua oh cazzo è coperto di fango non mi faccio niente beccati sti spicci brutto figlio di puttana no aiuto aaaaa uiiii ma non riesco a cavalcarlo signori è già stato cavalcato no ma cazzo ti permetti no non è vero non c'era lì oddio una carpa che è successo boom 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 me lo sei fatto duro erano vola oh bastardo scusa aspetta aspetta sei pronto ti faccio vai cavalcalo no vai niente eh ma perché mi sa che è sdraiata a terra va batonna gli abbiamo rotto pure l'anima cazzo oh non vedo più niente vai ma che fa ma che fa a rotolino oh e ce l'ha fatta a scappare taxi si vai che sto dai però arrivano prima loro che vanno a piedi dai ma dove cazzo va vabbè e tutti con le covalcatura che succede qui è già pronto cotto e mangiato io non ho trappole io non ho trappole però si faccio io faccio io faccio io dice che è già pronto che si è morente perché non lo vedo il teschio io ma forse è un botto che non lo caccio merda forse non dovevo usare il baccelloletano ma 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 stai qua vabbè ma dovrebbe tornare in teoria perché la trappola è ancora lì o l'hai distrutta e niente è salita cazzo ho sbagliato volevo aggrarlo con un baccello gli ho tirato quello sbagliatissimo quello più sbagliato gli ho tirato vabbè la metto io la metto tranquillo gliela metto proprio sotto adesso lì sì sì voi Don bene anche i gioielli non c'è problema ma si ma dato l'assai... gli abbiamo rotto tutto cioè dovrebbe... ora qua a me ne date due figurati... ah no merda è sacca torrente questa sacca acquatica dobbiamo andare in basso grado dobbiamo andare in basso grado puttana troia vediamo che gioielli mi ha dato scusa ma la sacca acquatica per cosa ti serve resistenza veleno ghiaccio dragon va a fare il culo mi serve per ampliare l'albero vetusto esatto ok come si dice l'albero vetusto no ho detto albero vetusto quello lì insomma la coltivazione no si si albero vetusto questa mattina facevi il contadino puoi dirlo forte ne vada puoi dirlo forte si si mi sono di nuovo flashato su farming simulator io ci vado matto per quella tipologia di giochi certo ho bestemmiato pure lì stamattina non hai idea di sto cazzo di ho ribaltato due volte il carico con le balle di fieno minchia rotolavano dappertutto vaffanculo tra l'altro ho iniziato a guardarti quando mi sono svegliato sono andato al cesso e ho detto attenzione attenzione ocio ocio e niente devi guardare te sei delle taglie di gira gira mi sa però perché basso grado molto 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 bene va bene avviate pure io magno nel frattempo vaffanculo vado di piatto fioritura vai ma sai che sul pc che sono molto più avanti non ho una taglia di st cazzo di giù di gira gira il gira gira ci posso anche credere perché che cazzo lo farmi a fare il giro todo stato una certa va bene va beh di basso grado dobbiamo stare attenti a non ammazzarlo cazzo esatto io ho riprovato a fare un toby cadaci di alto grado mi serviva a catturarlo niente gli ho tirato una spadata di troppo non era ancora morente l'ho seccato con una spadata con quella spadata unisciti a missione allora si collega e collega che cosa scusate ma donna è già uscita per play accampamento quale sempre 11 io sono andato all'uno tanto vengo col taxi non ho mai capito sta roba che su pc esce per una data su playstation un'altra su switch un'altra ancora beh oddio un sardo sei vero l'ho percepito proprio adesso da tutto il complesso della frase ti sei lasciato andare l'addizione ti ha abbandonato un attimino non lo dico in senso negativo per me la cadenza sarda è la più bella secondo me la cadenza sarda è la più bella che c'è in italia porca di quella troia porca di quella troia no no che belle hai i sardi aldo giovane e giacomo patagaroso allora taxi vai ma scusa domanda se io volessi galoppare l'apceros no mostro localizzato sono salito sopra un'apcero niente ma mi ha disarcionato va bene vado sul chesso va bene grazie grazie mille mi ha disarcionato andateci piano eh ragazzi che questo muore guardandolo esatto merda merda dai dai e dai e cavalcalo beh sicuramente gli fai meno danno che colpendolo normalmente non gli fai uno e niente guardalo come si sembra un dildo un dildo in azione oh mio dio poverino raffaaaaaa madonna non voglio colpirlo ho paura di fargli troppo male non ci arrivo va bene ok occhio eh oh mio dio devo stare calmo io questa spada ok non credo sia ancora no ah io tengo la trappola a portata di mano sta morendo sta morendo metto la trappola non credo no gira su se stesso aspetta che vieni qua zoro vieni qua sull'isolotto oddio scusami boom bravissimo oddio non è ancora pronto non è ancora pronto giù adesso porifera eh che fatica oddio che è successo mi sa che mi sa che ho fatto la stronzata una sacca vabbè una te ne serve due no le ho presi tutte due buono ok prendi tutto spero di non aver fatto la minchiata perché ho premuto r3 non so cosa dove mi spedisce adesso all'accampamento oh cazzo merda vabbè non importa rientro ma si allora centrale adesso che c'hai da fa aspetta che ti ricordo che la mia play è vecchia facciamo facciamo ancora un caricamento cioè insomma allora facciamo così se hai roba di basso grado da fare magari lasciamo la strada mi arraggio eh allora questo mi interessava per avere più più spazio più piantina su cui cagare allora consegna anche perché mo tocca farmare temprati draghi anziani insomma bene ho fatto due consegna mantello acquatico c'è un mantello più inutile del mantello acquatico vabbè che il mantello acquatico contro DJ Sky L chi sarebbe DJ Sky L Namiel ah ok c'è l'armatura su sul computer del Namiel cioè contro di quello magari può anche servire però contro il resto quando cazzo mai lo metti allora fammi parlare col compagnone qua vai vai pin 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 deve salire di grado praticamente partire una spedizione la foresta antica perché oh no perché è una spedizione avrai delle tracce da cercare ah si cazzo hai le tracce da cercare beh tanti auguri io e lui andiamo a giocare a fare qualcos'altro che odio no deve probabilmente è quello del Paolo no forse è quello del no non credo sia quello per me del Gran Jagras gran mare basta questo Gran Jagras già fatto già fatto vabbè lo scoprirà esatto allora vediamo un po' se ho qualche bu no quelle le faccio in singolo tutto quello che è nuovo faccio in singolo allora però per esempio guarda no per i pezzi mi serve il teostra al grado maestro ma non l'ho ancora incontrato e quindi andiamo a fare sto buzzel devo catturare un buzzel vulcanico nella landa dei cristalli nella landa degli evocatori un'inchiata welcome to the league legiana ecco cosa devo fare legiana allora nota di caccia landa dei cristalli 16 si ok ghiaccio allora equipaggiamento dunque ghiaccio potreste anche correre un po' di più assistente scusa ma non mi sono fatto mantello ignifugo vabbè ma l'importante è che tanto te lo puoi sistemare con come si dice con con le gemme si togli gemme metti gemme esatto anche perché io alla fine di iceborne ho due pezzi ho il la cotta la cittura la cotta la cintura e le armi basta basta che dai un'occhiata al mio equipaggiamento e vedi che cosa a giusto gli oggetti pvade pp 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 ma perché prendo le tracce delle genero mi sale il livello ma sei sicuro E' possibile Anche a me succedeva ogni tanto Non te lo fa vedere Scusa C'è legiana Cazzo sono stile Legiana vecchi solchi No, in realtà no Ma decorazioni Intendi stile di armatura Ah Eh beh si minchia Effettivamente è una rottura di cazzo Sembra di essere tornati su Destiny Fanculo Bello Destiny Destiny è veramente un bel gioco Però minchia Quanta rottura di cazzo dagli engrammi Però di base Un bel MMO FPS Io sono arrivato dove Devo arrivare a Legiana Eh beh Adesso ci facciamo un attimino Sto a missioncina Che se ne sta andando File e Giana Se ne vanno Ma non è che Ti sta iniziando Iceborne Sei nella foresta antica Giuppo Giuppo E' andato Mi si è scaricato il joystick Ah Giuppo ma eri insieme all'assistente Sì Allora mi sa che sta andando su Iceborne Harry nella foresta antica Sì sì Allora niente Stai sbloccando Niente Semplicemente stai sbloccando Iceborne No vabbè lui lo Xenogiva l'ha già battuto Quindi Fondamentalmente Easy Ok mi ha cagato Mi sa Sì 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 Ma hai mangiato Chip Sì È così poca vita Ma come fai a vedere Scusami È uscita prima fuori la vita Minchia guarda No proprio la quantità Di barra mi sembra poca Madonna guarda Sì sì No non è massimo Io sicuramente ne ho di più quando mangio Ah forse perché ho l'ammuleto Boh io ho l'ammuleto vitalità anche quindi Ma porca E niente Ma l'ho schivato Vabbè vaffanculo le ambre Oh 200 200 Oh c'è un dodo Ah cattura del belge questo E sarà il mio terzo che catturo questo E intanto che fate quella Vado a fare le missioni del cazzo di raccogli Fai sbriga Va bene va bene Se no ma tanto non penso che ci metteremo molto Oddio è andato nel nido della cusciala Che palle Io qua devo ricordarmi che sono in grado maestro Devo farmarmi e fare ossa E tutto quanto Guarda che adesso arriviamo e se ne va Ok grado maestro 1 adesso No No non ci ca Allora Porca puttana Ma guarda dove cazzo è andato No a prendere meccanica non c'ho voglia No a prendere meccanica non c'è No a prendere meccanica è andato No a prendere meccanica è andato No a prenderà meccanica Allora Non c'è Non c'è No No Merda non c'è andato Perché si è girato Ma No no Maronne Boom Sì sì Uh che male Aspetta Girati verso di me stronzo Bravissimo Bellissimo Allora Non farò in tempo? Ah una in tempo Lo sapevo che urlava bastardo Kelby Dove caccia sono qui? Bastante Merda Ma che fa? No ti prego Oh 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 Questo mi ammazza Grazie mantello Oh c'è un'altra Va bene Posso alzare Oh no Non credo Che appena cade questo Non lo facciamo più rialzare Ah Oh Il montante Lo sente Oh cazzo Ok forse è meglio se mi tiro Una pastiglietta Cosa Gatti Maledetto Oh no Sono stordito Micio Micio Veramente Sei serio Oh non so Oh è caduto Eh ho capito Fammi alzare Vaffanculo Niente Va bene Sono una palla da basket Sto rimbalzando Da tre ore Allora Dove è quel merda? Il merda Dove è andato? Ok Moron Vado Bravissimo Ma Ma guardate Io non ci credo Non riuscivo a salire Il gradino Guardate Intentino Chicto Ma Ma Grazie C'è C'è Vespoide Oh, guarda l'osso Ma che è sto salto? Eh, vaffanculo Se il Vespoide che ho lì di fianco mi tocca, guarda Disinstallo, giuro Vediamo se si ricrea il nostro Vespoide dell'osso Oh, yes Ma, tornate l'osso E vattene a fanculo Niente Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho Dai, girati verso di me Allora, lasciare il vetame Preso 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 Dovrebbe andarsene adesso Sta morendo? Sta morendo? Uuuu Aspetta Dovrei essere sicuro Dovrei essere sicuro Nooo Peccato Ho provato a predicarlo Comunque sì, è quasi cotto Ma cosa fai? Non ce l'hai più la coda Aspetta che mi devo tirare anche una bevanda fresca Ciao Estra Oh, cazzo Com'è Estra? Eh, si è disconnesso il PC da internet Meno male che C'è il cellulare Ma, Estra è così che si abbonano col Prime All'improvviso Senza previso Arriva Boom Mi tira una Zao, zao, zao Come stai Estra? Che racconti di bello? Grazie mille per la sabina Oh, non si fa cavalcare il PC Oh no Si, vabbè Fa... 40 km Guardalo, guardalo Va bene Merda 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 Che male Cura, 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 cura Eh, cura, cura, cura Niammi Aspetta che tira una cura anche ad Ale Eh, minchia, caga uova Manco fosse Pasqua Oh, io lo voglio... oh Oh, il cardio ce l'abbasso, eh, bro Oh no Momento che adesso vi leggo, ragazzi La situazione è concitata E' caduto E' caduto Senti come va su di giri quando sta morendo Ok, mi sa che muore Perfetto Aspetta che non vada a nessuna parte Sì, 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 sì Aspetta, aspetta, aspetta che vola Metto giù la trappola E' puff Molto, molto, molto bene Chi è questo? Ma vaffanculo che paura E' il... Le vigio selvatico Appisellata Abbastanza bene, oggi ci si rilassa Sai come sta molto, molto, molto Molto bene, Estra Grazie mille ancora per la... Per la sabbezza, eh Grazie mille Raccontami qualcosa di te di oggi, signor Estra Sei svegliato adesso? Allora, molto, molto, molto bene Qui abbiamo... Difesa 2, wow Oh, era pure il buzzer più piccolo Eh, guarda che... Ha resistito, è il bastardo comunque Allora, io sto pubblicando una missione Se mi interessa dei due Rathalos Azzurro e rosso Molto, molto, molto bene Allora mi inserisco subito la build di World E sono subito da lei Attacco Drago, mi raccomando Hai fatto tardi? Che hai fatto di bello ieri, Estra? Metico Estra Metico Estra Magna, magna Mmmmm 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 Oh Vabbè, lo faccio dopo Mmmmm Mi date due secondi? Che devo... devo fare la... C'ho la centrale al massimo Si gioca le slot machine Attenzione, ludopatia portami via Tanto... buttando 100 ci metto veramente niente Ma io non ho ancora capito a cosa serve quella roba lì Eh niente, semplicemente ti da... ...materiali, pillole, gem, di tutto Vedi? Mega pozione, sfera armatura, linfe vitali Ah, ok Uh, i mici! Aspettiamo solo il segnale Eh, una vita che non mi uscivano i gatti I gattini! I gatti, i gatti! Ho sbagliato, veramente sono riuscito a sbagliare Non c'è Cioè, pure sul suggerimento dei gatti sono riuscito a sbagliare Che vergogna Bene, il vapore comincia ad aumentare Ok, ho finito Adesso che ne consumo 100 a botta Effettivamente ci metto veramente niente Mente vente veramente Allora, tu hai pubblicato hai detto, vero? Yes! Allora, io magno Porto comunque le... le trappoline e tutto quanto Così in caso se dobbiamo catturare Scemo ready Inizio ad unirmi Non riuscite a mission Alla galagalon Alla galagalon Oh, foresta antica Carica Diciamo che sei divertito, via Equipaggiamento Drago multiplayer elementale Vai Boom Poi Mantiamo Il mantello stabilità Poi Organizza oggetti Refulla tutto Prendi le polverine magiche Con 3G Come a magica John A magica Questa non mi serve Perfetto Perfetto Quindi devo fare qui due talismani lì che è in fondo Yes Nella cassa oggetti Ehm Dunque vabbè Appena ti compri quelli base Poi appena possibile Andiamo a farmarci il buzzel Così ti prendi gli speroni e le potenze Perché dovrai comprarne altri due No, speroni di buzzel mi pare che sia Deville Giovanni Giovanni Gli speronazzi di buzzel Pimpiri 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 Pimpi Pimpi Estra non mi ricordo tempo Beh non mi ricordo Ma tu sei un giocatore di pc vero Se... o ricordo male Ah, maledizione sei su sunbreak? mi ha cagato davanti al Rathalos ecco a me no gli do il buongiorno sono dalla diga certo non so perchè prima in spedizione ho trovato due polvere di culvetalo ah si è giusto no è giusto oddio che bella la rigenerazione mi manca parecchio la rigenerazione sull'arma guarda che roba sono avvelenato e me ne sbatto il cazzo proprio nooo figlio di puttana lo sapevo non ti permettere sai no adesso se ne sta andando eh starà venendo da me perchè gli sto picchiando il fratello oh frate oh frate e niente e volevi madonna sei resistente ecco quanto sei bello però ah ma è la Rathian eeeh mazzo anche lei non frega niente ma eeeh non vedo niente aiuto gangbang bastardo oh no sto stordito eeeh vabbè eeeh la diga mi aiuto ti avete stordito me scusami ci fa qua la Rathian eh te l'ho detto che ce l'ho madonna abbiamo fatto gol nella diga ma cosa fa cerca di urlare non c'è neanche più la voce neanche più gli occhi per piangere ma guarda che bastarda di merda porca troia beh in teoria non è una cattura quindi au stavo dicendo c'è anche una foda aspetta si prima di andare via vieni che ti faccio vedere dove è l'accampamento 17 ma per parte che lo sai dove è l'accampamento 17 sa che non so se lo so allora eh subito qua subito qua ho visto che non ce l'avevi eh aspetta aspetta cazzo adesso ti ci porto ti ci porto dove la coda vabbè non importa si ma non importa forse l'ho anche presa esatto Ale di qua entrami nel culo bravissimo mmm a destra bene 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 no sinistra sinistra qua aspetta che c'è una iuola no dove cazzo ah qui 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 proiettili perforanti eh no non ce li ho io e poi se dall'alto vedi di la dove di la eh zoro da questa parte qua quando eh verrai a farti una missione magari in spedizione qua se tu vai di la vedi ecco esatto dove sta andando Ale la c'è la la tana dei gatti i gattini se vuoi adesso non gli danno niente in teoria si gli danno tipo l'esperto di trappole e minchiate varie ma qua sopra? si si vai 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 gajalaka ah l'orchestra ah ma tu dici proprio a livello di strumenti ehm forse questi ti danno la maschera eh no anche perchè attualmente siamo pure in tre quindi non può neanche avere il supporto dei gatti allora il ratelos azzurro eh vicino all'accampamento 11 mh più o meno in realtà prendo la mount e ci vado oddio a dire mount no no però non importa tanto ci vado in taxi azzurro ah giusto vediamo un po' se sta cacciando quello giusto o si ok guarda che merda che non ha preso il copo a fare culo ho sbagliato ho spiegato ecco che mi è sparito il cristo il cristo in cristo con cristo vai jagra sono più grosso del jagra se non so come fa a camminare così con tutta l'armatura addosso poi signore che fai di bello oggi resta è di cosa ti occuperai quest'oggi oh no si continua a spostarsi mo questo ah eccolo hello hello mother fuck allora mi hai già rotto il cazzo eh aiuta no ti prego ok non sono caduto più te l'ho già detto che mi hai rotto il cazzo vero eh allora c'è la bomba guarda l'ho mancato e l'ho mancato di nuovo non ci credo oh no si è sminchiato aspetta bella bella ah ah se urla sto cazzo aiaaa sono stordito ok eh hai rotto i coglioni trappola eh cattiste saracca però non ci sto capendo un cazzo bene anch'io tu mena vola no volevo farti volare Ale vai no vai Zoro vai stai baton c'è anche un residuo allora mangiamo una pecora squartata mmm sardo anche tu quindi eh chi è stato? la piastrina ma l'educato non offri? ti 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 ma questa era una facoltativa? si ha si ha siciliano ma siamo lì va bene vaffa culo Jagras ma maleducato ma scusami anche tu ho mancato ho visto che rotolavi insieme ad un pezzo di ferro enorme va bene qui qualcuno caga senza sforzo mi dicono no cazzo sul computer muovemo molto più fortuna primo ner gigante e subito gemma benvenuto su play mamma mia dopo tot no aspetta sto parlando a livello di drop rate eh se dopo tot ehm volte che cerchi quell'oggetto che ne so tu ti inserisci nella lista desideri quella gemma di quel mostro che ne so magari dopo 20 mostri che uccidi te la droppa automaticamente senza eh ma così è troppo facile però facile io posso capire essere come mai Genshin è così amato però purtroppo per i motivi per cui è amato così tanto io non riesco ad amarlo cioè non probabilmente avessi vent'anni di meno lo amerei alla follia ma non è più un gioco che fa per me ma ma come fortnite no beh aspetta aspetta adesso no fortnite è un gioco che comunque si può giocare si fa giocare molto di più anche perché non è una è uno sparatutto battle royale una merda ma in realtà è il migliore battle royale che c'è in circolazione per quanto se ne dica male e per quanto se ne dica perché poi alla fine se ne dice male perché si dice che è pieno di bambini che ci giocano grazie al cazzo ma su quello anche rainbow six che non è un gioco per bambini però è pieno di bambini anche quello purtroppo si anche rainbow six e tralasciando quello quel discorso di fortnite alla fine è il miglior battle royale che c'è in circolazione per quanto riguarda gameplay per quanto riguarda gestione degli sviluppatori perché gli stanno veramente tanto dietro e ci mancherebbe cazzo un gioco come quello se non gli stai dietro madonna lascia perdere madonna lascia perdere madonna la riot io mi vergognerei fossi al posto della riot cioè come fai ma un gioco che viene e che è giocato tanto quanto league of legend dovrebbe essere sistemato ma dovrebbe essere sistemato ogni due secondi quel gioco lì invece no non sono in grado di equilibrare un cazzo poggi levati dai cogli ma non è una questione di equilibriatura perché fondamentalmente se tu ascoltassi veramente i pro player gente che le idee le ha risolverebbero veramente tanto per quanto riguarda e poi quelli della riot sono troppo fissati costecina se tu guardi ari che è il champion più giocato della cina va sempre bene hai centrato il discorso hai centrato il discorso ha 250 skin ma non è neanche sbagliato come discorso capite quello è il problema si ma fai solo le skin però devi bilanciarlo è l'unico champion che tu puoi prendere blind mid senza aver paura che ti counter picchino no vabbè però allora l'ax è un personaggio rotto da sempre e allora cosa facciamo lo potenziamo ma sei scemo allora cioè sono d'accordo con il rework di aurelion soul perché fondamentalmente aurelion soul si ma adesso è rottissimo si ma prima era un personaggio meme adesso sicuramente lo sistemeranno attenzione ester non è d'accordo con qualcosa io ho giocato a lol dal 2012 allora io ci gioco da quando ero in beta lol minchia e non sei ancora impazzito? si di fatti l'ho mollato tantissimo adesso gioco solo quando ci sono tipo le urfe o le one for all quelle cazzate lì le ranked mi viene il sangue cotto guarda ester quello è un discorso che si può applicare praticamente a tutti i videogiochi è un discorso che si può e poi metterei il sistema di ranked a pagamento no adesso non esagerare perchè così quelli che vogliono trollare non possono farlo ma lo fanno comunque c'è gente che compra gli account secondo te non lo farebbero comunque a me ha cagato qua dal ah ok ma scusa l'hai colpito? non se n'è accorto? ah ok ho visto che lo menavi ero pronto a bevanda fresca subito no ma sicuramente ha un'importanza però cioè capisci che non puoi deve avere un'importanza devi dargli un peso madonna se riusciamo a catturarlo no 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 le trappolo io le trappolo ecco il sistema il sistema di ranking di fortnite che alla fine è simile a quello di apex è un modo intelligente per sistemare tra virgolette il il sistema del rank però non è così semplice neanche lì insomma eh esatto 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 però non puoi fare quel genere di di sistema su un gioco come League of Legends il problema il problema allora fondamentalmente ragazzi il problema delle rank di League of Legends è che la gente si ostina a voler andare a fare la solo Q in un gioco di squadra non puoi non puoi ti devi creare un team stessa cosa su Amazon poverino stessa cosa su Rainbow Six stessa cosa su Rocket League non puoi basarti sui random e finché la gente non capirà questo semplice discorso continuerà ad andare in solo Q a rompere il cazzo a lamentarsi dei random e allora ma io non trovo amici per giocare cosa ci sono community ovunque comunque nonostante tutto ancora il gioco più seguito al mondo sì sì ma giustamente perché è un gran bel gioco è il più competitivo che c'è perché lì veramente se sei forte come dice là non dirlo non dirlo no però ecco se sei forte viene ripagato e non è che uno scarso tipo me può andare Challenger mai no beh certo devi avere skill però comunque uno scarso come te per dire uno scarso se si gioca la partita della vita e fa le cose ben fatte ce la fai a vincere una partita e magari anche a carriarla sì sì allora ho fatto l'annetto di Genshin però a tuo livello sì certo certo non puoi andare troppo oltre ecco insomma ti devi un attimo basare piastra ho preso io allora ho fatto l'annetto di Genshin prima che mi schifasse perché è diventato pure quello troppo strutturato troppo storia del cazzo troppe porcherie ma Genshin è strutturato Genshin è strutturato è bellissimo per il resto come batterò io adoro Apex ma non mi piace Fortnite ovviamente son good no ma Apex se non a pari livello è leggermente sotto attenzione e poi sono due giochi diversi sono due giochi diversi ovviamente certo LOL ha veramente sbagliato tutto nel tempo più che altro viene premiato vieni premiato solo se hai 15 ore da passarci al giorno un mio amico di paese grand master ma non è fortissimo gioca solo tutto mmm mmm mi allora sì ti posso dire ovviamente sulla quantità di partite che giochi quindi se non hai l'mmr sminchiato diciamo che sulla quantità vai a guadagnare più di quello che perdi ok se non hai l'mmr sminchiato però comunque dipende dipende perché io fondamentalmente sono quando giocavo League of Legends me la giocavo anche sempre abbastanza safe il mio punteggio alla fine non era mai troppo schifoso e e comunque una mano non riusciva a darla in partita quindi non è tanto il non essere fortissimo quanto il sapere se ti conviene ingaggiare quindi già solo il posizione anche il Rocket League non è che devi essere maestro di skill la gestione basta che sei posizionarti un minimo nel campo e fare gli interventi giusti quando serve e già quello ti rende un giocatore bravo poi certo una cosa poi importante di Lole sono le rotazioni se sbagliano se non sanno fare le rotazioni i compagni e basta ah minchia quello eh ma lì si parla di macro ed è il discorso che stavo facendo il macro game è molto più importante del micro assolutamente molto più importante il macro ma di base è fatto male l'mmr eeeh io purtroppo ho visto queste cose qua c'è Brice che ne sa molto di più ecco quindi preferisco non mettere troppo bocca dove non so so però che l'mmr è molto facile che si sminchia per quello la gente si crea un sacco di secondi account o li compra direttamente già attenzione che ci abbiamo da fa diablos nero no si diablos diablos ghiaccio cattura o beh catturiamo se riusciamo unisciti a missione a campo a ti dobbiamo far scoprire l'accampamento 15 è prima di ingaggiare si fondamentalmente fa abbastanza schifo ti porto un attimo dall'accampamento 15 prima di andare ecco equipaggiamento ghiaccio aspetta ghiaccio elementare multiplayer boom mantello stabilità un attimo poi organizza oggetti refulla tutto posa questo resistenza ghiaccio quindi no 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 è attacco ghiaccio resistenza e fisica bacelli urlanti trappola ok bacelli merda ne ho molto bene mangio pasto a zenni piatto dello chef vado a calcare sulle piantine come te la passi fertilizza catalizzato no gelatina densa comunque buh non so io per le varie lamentele che ci sono sempre sui non sono uno sviluppatore non sono cioè io penso che non sia nemmeno semplice sistemare tutto e fare tutti contenti il fatto è che loro devono basarsi sul competitivo devono riuscire a far collimare competitivo con casual perché giustamente è un gioco competitivo ma ma la stragrande dei giocatore la stragrande parte dei giocatori sono casual e quindi se loro vanno a vedere in percentuale di guadagno ci guadagnano molto di più dai giocatori casual piuttosto che dai giocatori di competitivo anche perché competitivo chi fa competitivo non spende soldi anche perché magari hanno pure l'account riot quindi 90 per cento dei competitive player ce l'ha l'account riot quindi gli streamer associati esatto esatto cioè è quello il problema purtroppo è quello il problema e si ritorna al discorso di che faceva prima est che si rovina quando diventa un gioco per tutti for honor voi lo conoscete for honor ve lo ricordate allora for honor for honor e vabbè tralasciando che ubisoft e quindi a prescindere è un gioco che è una bellissima idea ma gestita di merda ma lì è perché ubisoft perché rainbow six anche lì è un'idea della madonna è un gioco della madonna ma gestito veramente a cazzo e stanno veramente rovinando il gioco hanno da quando hanno iniziato a uscire operatori come legion in company roba invisibile hanno rovinato tutto perché l'hanno rovinato punto e basta e potenzialmente allo sparatutto più bello che c'è sì e sono d'accordo sono d'accordissimo a livello di teamwork e di strategia eccetera eccetera mica puoi sparare attraverso i muri cioè ma ti rendi conto che la soddisfazione che ti dà il comparto audio quando senti che nella stanza vicino a te in quel punto preciso sparando attraverso quel muro lo colpisci in testa perché senti anche se è crouch cioè è follia è follia oh scusatemi ero concentrato un attimo su quello che stavo dicendo è follia e for honor anche lì era partito come una buona idea beh c'erano dei personaggi che erano veramente sbilanciati ma per un certo periodo è andato tutto bene poi però sono hanno iniziato ad arrivare gli shinobi hanno iniziato a sentire più le lamentele dei giocatori casual piuttosto che dei giocatori quelli che giocavano in modo serio e allora hanno iniziato a fare stronzate su stronzate per quanto riguarda l'equilibrio di gioco su determinati personaggi e l'hanno rovinato rovinato completamente io sono già qua allora fai una cosa vai su 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 perché tanto sarai sotto immagino devi salire un attimo su merda ma scappa vai tranquillo ma tu non mi sa che non ci hai giocato dall'inizio il conquistatore all'inizio era l'eroe più rotto del mondo bene che poi allora vado all'accampamento è sempre stato molto sottovalutato il conquistatore perché non lo usava quasi nessuno perché fondamentalmente i danni che faceva erano veramente pochi però cazzo quanto è forte era pure più forte del warlord come stai doc? che racconti di bello? noi ti aspettiamo un attimo qua dai se mi va via l'agro magari ehm sì posso essere d'accordo l'Eylander secondo me non dovrebbe avere tutto quello per armor l'Eylander secondo me non dovrebbe avere tutto quello per armor no ma sì non trovi più niente niente stavamo parlando di di videogiochi belli rovinati dal dai giocatori che dalle in realtà dalla gestione degli sviluppatori dove devo venire? perché ok che cosa? non so sono andato da tutt'altra parte io bene mi sono appena svegliato 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 dopo che ho dormito quattro ore fino ad ora praticamente uuuuuh hai fatto nottata? hanno rotto il cazzo Steve ha spoiler però ehm ehm ma fondamentalmente gestito gestito bene non lo sarà mai perché se ritorna al discorso ehm del della convenienza dell'introito buttati qua sotto però per quanto riguarda il gioco più bello mai creato ti posso dire di sì di quel genere non non andiamo su estremi estremismi che insomma è è è e le sono i gattini ecco zorro qua poi c'è l'accampamento dei gattini quando se verrai in spedizione ok però tanto ti puoi arrampicare di qua vedi e qua c'è l'accampamento allora io inizio a mettermi i baccelli urlanti Questo magari mi potenzio Ho giocato dalle 23 Poi all'haul Con dei miei soci Poi abbiamo finito di giocare alle 3 Io ho continuato su Isaac Su Isaac con un amico Hai fatto multiplayer su Isaac Credo sia la cosa più brutta da fare Attenzione si massacrano Sì sì io sono Super mega veterano dei soul Oh ma Guarda io non Ci credo se ti dico che non ho mai Platinato uno di soul e non mi interessa Sono stordito Cioè mi ha toccato una volta E mi ha stordito Grazie Diablos normale c'è già Aspetta che uso il baccello No No Non l'ho giocato perché Devi sapere che a me I soul Hanno rotto il cazzo Dopo ti spiego bene il perché Però fondamentalmente Perché mi sono rotto il cazzo Di dare soldi Per giocare a soul Già giocati Merda no 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 Tranquillo Dai giù Stikero l'ho giocato una volta L'ho portato in live Però l'ho giocato a modo mio Per farmelo piacere Cioè Senza abilità prostetiche Guarda 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 Stikest Don di merda Diventi praticamente immortale Guarda eh che muoio Guarda eh che muoio No non muori Aspetta che ti do una cura Ahia Eh ho finito i baci agli urlanti È giusto per avvisarvi Eh ho capito Hai rotto il cazzo Hai rotto E sono stordito Ehm Grazie Molto gentile da parte tua Io ho tipo i souls Per farli un po' più divertenti Ho iniziato a farli i randomizer Ahaha Eh ma noi da play non si può È sempre la stessa cosa Immagina sta situazione Starti una run E ti accorgi subito di una cosa È la course of the labyrinth O come cazzo si scrive E quindi inizi la run Con quattro oggetti in totale Due treasure e due boss Tra i primi due oggetti trovi Ci sono scorpio E il fungo Con la testa grande Che aumenta il danno E le tears Quindi i nemici Se li guardi storto detonano Eh Ti è andata bene allora Il fungo con la testa grande Ehm Magic mushroom Magic mushroom si Anche se secondo me L'oggetto più rotto di Isaac È sempre da L'oggetto più rotto di Isaac È quello Eh non ho bacione di urlante Purtroppo L'oggetto più rotto è Sacred Heart Quello è rotto Ah scusa Non ho sentito Big Godhead Ma dove cazzo l'ho tirata? La combo sicuramente più rotta È Soy Milk E Libra Quello si Però vogliamo parlare anche di Brimstone E Tami Z Anche È molto più facile da trovare O Tears Bomb C'è anche Tipo Ma porca Vai in Romania Che Ipecac Madonna Sì diciamo che Quello è un po' più semplice Come combo rispetto Dai vieni vieni Ti aspetto Vieni vieni È un po' più semplice Come combo rispetto a Cosa come hai detto Libra e Soy Milk Mi è successo Una volta Una volta Su tutte le ore che ho A me è uscito Libra E Almond Milk Che vabbè Ah però quello è Rappentance Giusto? Sì sì Ok Eh io Rappentance Non lo conosco Purtroppo È più o meno la stessa cosa Boom Mal toccato Madonna T'ha tolto metà vita Sono sopra Dove va? Eh Va a farsi un giro Va a farsi un giro Volevi Ah Eh Non ho fatto in tempo a dirvelo Perché non ha fatto l'animazione Grazie I'hai Ok sta morendo Uhhhh Aspetta che metto la trappola Ok che sta morendo Rega non colpite Almond Milk Fa la stessa cosa di Soy Milk Ma aggiunge che le lacrime hanno gli effetti Del Trinked Figo Sì Allora vado un attimo a pisciare A scaldare un caffè Arrivo subito Vada la Gemma Ah però Gemma Weaver Fa culo Fuicare la Gemma Weaver Grazie a tutti. Come scusa? Hai detto qualcosa? Ah, eccomi qua. Che poi tornando un attimo sul discorso League of Legends, approfondiamo un attimo una cosa. Ogni giocatore ha, diciamo, la sua nemesi a livello di personaggio, di campione quando se lo trova contro. Quindi fondamentalmente accontentare proprio, alla fine per ognuno un personaggio è rotto, mentre per altri magari non lo è. È un po' tipo, cazzo quel boss di Dark Soul è fortissimo, ha avuto un sacco di problemi, ti arriva lo stronzo di turno che ti prende per il culo perché dice ma no, quel boss è una stronzata. No, semplicemente il discorso è, quel boss probabilmente per te è una stronzata perché sei riuscito a capire meglio, con più facilità, come si muove, l'hai compreso meglio semplicemente. E magari quello che c'ha avuto difficoltà non riesce a percepire bene i movimenti che fa quel determinato boss. La stessa cosa più o meno è con i champion di League of Legends. Io avevo, c'avevo dei champion che fondamentalmente non sono rotti, ma quando me li trovavo contro, dio santo, non sapevo che cazzo fare perché minchia. Io tipo ho quel problema lì quando gioco top e contro Urgot. Eh, ecco, Urgot per me non è un problema, mai stato un problema, mai, mai, ma anche se lo giocava, magari quello che c'avevo contro era un platino, lo riesco a capire. Ce ne sono altri invece tipo Akali, porca puttana, io non ho mai capito che cazzo fa, le Blanc non ho mai capito che cazzo fa, cioè mi esplode il cervello. Quel figlio di puttana di Joker, come cazzo si chiama? Shaco. Shaco, mio Dio, Shaco, io mi prendo il panico quando vedo Shaco. Il problema di Shaco è quando ce l'hai in squadra, è come avere un pupazzo. Esatto, quando ce l'hai contro... Quando ce l'hai contro, sembra di avere contro, non so, il peggior Joker che si è mai esistito nella storia della DC Comics. Esatto. Ah beh, Yumi... Mienga, ma Yumi è rotta, eh. Merda, è una merda. Chi gioca Yumi support è perché non sa giocare a League of Legends, secondo me. Il problema è quando sanno giocare a League of Legends e sanno usare Yumi. Porca tron... Io quando facevo support che avevo contro Yumi ho sempre stravinto. Sempre. Yumi, ti prendi Pyke, basta. Pyke. Ti prendi Pyke support, se loro hanno Yumi support, basta. O Leona. Beh, io Pyke purtroppo non sono mai riuscito ad usarlo bene, perché è un assassino. Ma ma è fortissimo. È fortissimo, sì. Però non sono in grado di usarlo, vado molto meglio con Blitz. Infatti Blitz era il mio main, insomma. Blitz, Brand... Blitz, Brand e Rammus erano i miei main da support. Madonna, Rammus è... È rotto! Quando mi capitava di avere magari contro almeno tre AD, Rammus tutta la vita. O Rammus o Malfite. Eh, ma Malfite è già un po' più complicato da gestire, perché fino al 6 non può fare un cazzo. Invece Rammus... Sì, ma c'è una difesa fisica fuori di testa. Eh, ho capito, però devi arrivarci. Con due oggetti arrivi e 400 di difesa fisica. Sì, ma io ti parlo da support. Cioè Malfite, support, prima che in grane arriva ad averli, quei tre oggetti, minchia. Anche perché fondamentalmente quando c'è l'AD, c'è l'Enchanter, quindi magari ti capita di avere contro una Morgana o una Luxe e Malfite prende un cazzo gigantesco. Vado un attimo in bagno. Prego, prego. Malfite support vale la pena farlo P. Ni, ni, ni. Sì, forse sicuramente conviene molto di più da AP che da AD, certo. Però io Malfite AP non l'ho mai sopportato perché diventa come brand. Cioè ti butti in mezzo, clicchi R e muori. Però qualcuno magari lo uccidi. Ma che c'ha il mio PC oggi? Ah, l'esce ancora? Che non l'ho più sentito? Ah, aspetta che ti devo alzare un po'. Allora, ti devo alzare un po' il volume. Ecco qua. Perché durante i combattimenti non ti sentivo. E alzo anche un po' giuppo. Giusto due tacchette. Ecco qua. Malfite support non l'ho mai giocato, quindi non so bene come funziona in botlane. Beh, il fatto è che, come ti spiegavo Doc, se tu c'è, dall'AD carry magari prendi meno danno. Allora, partiamo subito dal presupposto che essendo support fai una fatica terribile a fare soldi. Quindi non facendo soldi rimani molto indietro a livello di oggetti. E la cosa forte di Malfite è la difesa fisica. Ok? Quindi, senza oggetti, non hai difesa fisica e diventa complicato andare avanti. Poi, il fatto è che, essendo magari l'AD avversario insieme a un enchanter o comunque un support AP, Malfite non riesce mai ad avvicinarsi abbastanza per rompere i coglioni. Perché le prende veramente tanto e forti dal support. Io Malfite lo uso AD top, che nessuno se lo aspetta, con l'hydra famelica. Ma, scusa, ma com'è possibile che nessuno si aspetta un Malfite? Allora, Malfite AP lo devi usare in mid. Usarlo in top, non serve a un cazzo il Malfite AP. Perché vieni, ti tritano, ti scotta. Quando ci gioco quelli contro, aspettano sempre il Malfite AP, perché sai, Q ulti, fai un danno della Madonna. Certo, certo. Mentre il Malfite AD con l'hydra famelica. E fa uno splashdown, ma è già assurdo. Io so che con Malfite AP ho sempre preso il cazzo, l'ho sempre giocato AD. Perché lo usavo in top, eh. C'è... Sì, 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 sì. Allora, l'Uragan in teoria è acqua o ghiaccio, non mi ricordo più. Acqua. Acqua, 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 acqua. Ho pubblicato AD. Sì, sì, sì. Non potrebbe essere una buona idea mettere gli ignifugo contro di lui. Ma no, cazzo me ne frega. Allora, re fulla, poi trappolina, poi bevanda fresca, e poi polvere vitale, linfa vitale. Perfetto. Siamo pronti. Io Malfite l'ho giocato qualche volta con Lethal Tempo e buildavo la triade. Io vado sempre full... Andavo, sempre full tank. Non l'ho mai usato per fare tanti danni, più per rompere il cazzo. Però comunque, per rompere il cazzo, se vuoi rompere bene il cazzo, Rammus... Rammus con... Quello per correre più veloce, come si chiama? Quello che ti dà le scarpe attivabili... Sì, Predator. Predator, madonna santa. Ecco, una cosa che era diventata broken, era... Veigar col Predator. Porca puttana. Veigar col Predator. Tu immagina... Un bel Veigar con tante stack. Come cazzo gli scappi se c'hai il Predator? Voi, l'ho sempre fatto full AP... Cometa... Che ti tira a Q... Ti tira via tre quarti di vita con una Q... Uno veramente rotto con il Predator era... Il vampiro, come si chiama? Vladimir. Vladimir, sì. Vladimir con il Predator... Cioè, andava più veloce di Nunu, cazzo. Dark Carlos... Ecco, Nunu, un altro di quei personaggi che se ce l'hai in squadra fa schifo. Ma non ce l'hai contro è Dio. Vladimir? No, no, Nunu. Vabbè, ma... Si torna sempre sul discorso... Dipende chi usa... Cioè, chi è che lo usa, insomma. Ehm... Non posso eche arriva. Sì, è arrivato. Oh, scorgia, scorgia! No! Minchia, meno male che non era quello che addormentava. Attenzione, il predict! No! Cazzo, grazie. Ma con quale C'hai il range del Devi giusto Oddio Hai rotto i coglioni Ah sono tutte le facoltative Che mi sono rimasto indietro Di livello più alto Tecnico Non devo arrivare al 5 Però è quella questa lì Oh hai rotto il cazzo Dottor Mentone Ecco Hai visto Eh non ho bacione Hai rotto il cazzo Te l'ho già detto vero Niente Stabilità E si vola Grazie Ok la scorreggina Bastardo vivo Merda non avevo baccelli Guarda che Se mi tocca Adesso Un cellaccio di merda Dica 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 signor doc Dica pure Cometa su vega Ma dipende Cosa stai facendo Ti serve la boss rush Eeeh Minca Lo cavalco Lo cavalchi Lo cavalchi Pia Correcti Giam Steuer Pia Non Sì L'ho Eeeh 8 e non è venire e non volevi e volevi volevi andare via e stronzo non mi serve vabbè la faccio comunque ma non è possibile supera che gli oggetti me li mette circondati da spina non può è una bella rottura di cazzo quando è così non posso prenderli in realtà puoi prenderli solo che devi dargli sacrificare un cuore a meno che non hai la bibbia o di hanged man o il callo o il callo il callo è veramente un ottimo trinket o la lima ancora meglio scusami cosa la lima è repentance che fa la lima ma toglie le spine toglie tutte le spine da qualsiasi cosa ma è un oggetto attivo un trinket ma dai c'era capricor non poteva è un bel minchia tu ho il stats up vaffanculo buttalo via buttalo via insomma due placche ma sarà mi sto preoccupando non mi ha neanche risposto quando l'ho scritto era malattuccia no? sì non si è visto né da zimber né da dark sai no che poi magari è andata a farsi i cazzi suoi però quando sei abituato ad avere sempre la persona presente certo certo 24 ore su 24 nuovi progressi del lavoratore biologico andiamo a parlarci vedo che sei ancora in piedi diablos nera e buzzer vulcanico che ci abbiamo qua ah la diablos tranne quello che mi hanno spoilerato in chat e quello che ti sei spoilerato da solo vabbè ma quello è perché sono un deficiente no niente eh beh soprattutto perché la parte più bella non mi sono spoilerato niente cioè non sapevo neanche che c'era il buzzer vulcanico non sapevo neanche che aspetto avesse il Rajang ne avevo sentito parlare certo certo non voglio neanche consigli però e non voglio sapere niente neanche durante la fight io ho messo a punto questa ragazza Sara Yagami come moderatrice perché è tipo la leggenda della wikipedia di Monster Hunter sa tutto di tutto di tutto di tutto ed essendo in chat quando vado avanti su Iceborne cancella i messaggi delle persone che arrivano e dicono perché ah no certo certo ma già con Rajang ho avuto un attimino da da faticare ma in realtà no in realtà non è vero neanche tanto perché fondamentalmente la volta che l'ho affrontato non ci avevo voglia e io devi sapere che nel momento in cui svengo una volta abbandono la missione e la rifaccio io non io devo farcela senza svenimenti e e poi alla fine mi sono rotto il cazzo e ho detto quel giorno non avevo voglia alla fine non l'ho continuato e tipo ieri o l'altro ieri non mi ricordo più ho detto boh andiamo a fare sto Rajang mentre aspetto che di giocare con gli altri se ho svenuto una volta poi boh l'ho catturato ho detto boh se voglio la vendetta vera ci vado poi lo vado ad affrontare come ho fatto con il Brachy nell'arena e vaffanculo si 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 della una delle prime missioni delle terre guida allora unisciti a missione che abbiamo pubblicato di bello la Valsiot oh ma l'accampamento 8 lo sblocchi oppure no? eh si eh vai un attimo al centro di coordinamento a vedere se lo puoi sbloccare no no sono appena andato un po' su quello che potevo sbloccare ho sbloccato ok allora l'hai scoperto? o lo devi ancora scoprire? secondo me devo ancora scoprirlo allora ti porto un attimo fammi vedere lava siot acqua perfetto consegna accampamento 17 foresta antica accampamento 8 landa di cristalli e lui e lui devo prendere barno spelle più devi ah allora beh la puoi prendere qua si 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 barnos pelle ci sono dei barnos vicino all'accampamento 1 sono barnos vero? pelle più eh? è un pelle normale si si è alto grado va bene oddio i barnos mi sa che non sono lì aspetta un attimo barnos 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 eccolo qua nella landa dei cristalli perfetto intanto subito lì dall'accampamento 1 ci sono che io l'ho il caffè l'ho appena bevuto non voglio già un altro fa che palle solo che devo mettere sulla caffettiera piano con la caffeina che troppa fa malissimo ma speriamo cazzo a me ha cagato qua dal lava se otto ma vengo all'accampamento no equa nella parte nella 10 zona 10 io come un coglione si è andato a 6 non ho preso no no non ho preso le pozioni ma arrivo ma guarda sto huragan di merda Ma dove cazzo sto andando? Vabbè Senti mi teletrasporto con Allora Accampamento 1 vai Prendete le bevande Mi raccomando Freschella Allora qua ci stanno i barnos Dove siete? Arrivo Ero dentro l'accampamento A prendere quello che non avevo Tanto sto menando i barnos Sperone Buono Uh Ash Non manca tra gli obiettivi per cui ci andrò Vabbè sì alla fine fondamentalmente è arrivato a un certo punto Bisogna giocare per gli obiettivi Bevanda Dov'è che era? No ma attento adesso andiamo ancora un attimino qua sopra Che ci stanno gli altri barnos No no l'ho trovata Ah sei già a posto? Sì Una me ne mancava Sti lo espoidi di merda Ah ma ricordati che comunque Certe cose te le puoi sistemare con i cacciaprede Sì 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 Mi dimentico sempre che ho cacciaprede ma Eh ma fanno il loro dovere sti bastardi Sono utili Dov'è che era? Il lava sotto era nella zona 10 Non l'avevo ancora avvistato però Zona 10 Eh nella lava Se si decide sto scemo a muoversi Oh Dove sta andando? Che giro fa? Oh Maggio era il cazzo che ho L'ho platinato Isaac E poi è sparito Cioè rompendosi la play Non ho mai fatto Non ho mai messo i salvataggi in cloud E quindi No Già Ebbene sì Ho perso i salvataggi Le vanno a presca Le spoid Eccolo Che cazzo vuole sto Uraga di merda Arrivo amici Dovi stare a calmo Dovi stare a calmo Iiii Iiii Che cazzo vuole sto Che cazzo vuole sto Eccolo 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 oh yeah baby l'hai sentita eh oh yeah baby stai fermo così? ma dai vieni fuori e che 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 ma Dov'ha? No! No, l'ho colpito solo con uno Oh, non cade È assurdo sto mostro Non cade mai Dov'è? Iiii, aiii Non lo sto colpendo, ragazzi Eh, si è girato in quel momento Proprio quel merda Come ti permetti, maleducato? No! Bravissimo Ma dai Ma dai Che fa? Guarda l'orizzonte La più da fare Oddio Gesù aiuto, che è successo? Beh, fai bene a chiamare A invocare Gesù su The Banding of Isaac Ah, invece poi Storditi Bastardi di Bastardi di merda Matta Natale Facecio Facecio così Yeah, vi curo o scusami c'era bisogno? anch'io dai ma cos'hai entomologo? io se li tocco d'esplodono no 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 rodo di mostri ci facciamo la minestrina pipi 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 ah già è vero ma c'è anche purple scusami quando? ah tre ore fa è andato in live ma come ne sono accorto l'una è ancora in live? no l'una non è ancora in live era andata due ore fa vorrei fare uno shout out a purple finor ma non mi ricordo bene il nome aspetta purple eh ho sbagliato a parte che se vado nei consigliati chi è miss purple in live in questo momento? ah la faccia signorina anjanat pelle di basso no davvero per sbloccare campamento 17 dobbiamo andare o mi arrangio farlo? e ti ringrazio eccolo qua purple finor allora slash non capisco perché c'è così poche da 8-9 stelle missioni alto grado non ne ho idea sai è tempo di lollare ma c'è sodier allora molto probabilmente perché non hai fatto neanche spedizioni alcune queste magari le sblocchi facendo le spedizioni facoltative allora io ho da fare Rattalos Rattalos azzurro Rattia rosa Diablos Legiana Odogaron e poi due arene Rattalos azzurro e Diablos nero ma le arene puoi anche lasciarle stare fondamentalmente perché sono cioè quando tu catturi un mostro te lo trovi in arena fondamentalmente stavo guardando sapevo anche delle taglie quelle viola come che si chiamano temprati sì ma non ne ho cipre ma vi letali ho un ner gigante però se vi va oh dai e minchia un po' di dai dai andiamo a fare un po' un ner gigante e io ne ho due due tipo non me ne intendo di V sai doc con elettroshock cazzo dici ma V con elettroshock non penso sia ma perché devi trollare pioggia di lame pioggia di lame allora le trappole quindi non servono sono taglia eh nel gigante va bene va bene V con elettroshock ma forca puttana perché mai dovrebbe allora unisci ti a missione mantello sfida ma ci vai jungler V in top come se la cava no io restavo giocando a doom e ho sbloccato il BFG 9000 non ho la più pallide penso sia un'arma da come lo dici ma non ho idea di cosa sia io penso che ho giocato solo il primo di doom e neanche tanto in realtà perché ero più su Duke Nukem esatto quando avevo sei anni giocavo a Duke Nukem poi ho 3D per Windows 95 madonna e poi dicono bisogna inserire il Peggy ma che cazzo è il Peggy minchia ah big fucking gun ok va bene oh un bel nerf gigante ma è temprato? chiedevo prima forse ok normale è l'arma più potente di tutto il gioco one shot a tutti i nemici no che brutta cosa sì esatto anche a me quei giochi lì arena non piacciono tanto però l'ho visto minchia la visivamente l'hanno l'hanno fatto veramente figo è il nuovo doom cioè visivamente veramente figo è un peccato che si sia perso anche Duke Nukem però vabbè insomma sono quei giochi che non sono destinati hanno la sua hanno la propria fanbase e poi si vanno a perdere è un po' come se Call of Duty non avesse mai avuto il multiplayer ma avesse continuato a fare solo l'offline la campagna appare che è dal 2 che c'è il multiplayer quindi il Call of Duty io sono sempre stato più per Battlefield che per Call of Duty e ma sono due giochi diversi sì ma oddio adesso non è anche più tanto sai l'hai giocato il nuovo Battlefield 2046 che come si chiama no no è praticamente Call of Duty difatti sono lamentati tantissimo i fans intanto devono continuare a ringraziare che pubblicano perché da come era da Battlefield 1 è iniziato a perdere veramente un sacco Battlefield ah cazzo è incazzato devo spasserlo al muro ma ma è fondamentalmente a livello di multiplayer è molto più bello code anche perché è molto più arcade di Battlefield Battlefield la conquista di Battlefield è infattibile oppure la corsa cioè il code è molto figo perché è molto veloce sono fondamentalmente due giochi diversi quindi va un po' a gusti quello che ti piace di più è dai srai, dai tornato Aspetta che Non sto sentendo Aspetta C'è veramente il gioco troppo alto rispetto Oh 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 Bello il Perry Ancora Che odio lui qua quando inizia a urlare Aia Ancora Allora devo fare un'altra volta Ma dipende un po' dal numero di HP che hanno Infatti è una bella protezione udito Non credo ce la farai da andarte Non sai C'è residua Merda non ce la farai Allora Scappo che già i parenti hanno rotto le balle Va bene va bene Estre Buona giornata Buon proseguimento di giornata Grazie mille per la compagnia No No Purtroppo no Che show off Haha Bitch Merda Madonna Come? Poverino Che bello che è E io pure la prima volta La prima prima Col primo personaggio Perché questo è il terzo Fondamentalmente Si ma gli altri non sono più avanti di questo Ma io Iceborne in realtà l'ho iniziato Cos'è una Due settimane fa Giù un po' Più o meno Forse Venti giorni fa Anche perché Basta guardare Da quando Da quando ho iniziato a seguirti Praticamente che hai iniziato Ah No Iceborne no Aspetta Basta guardare Basta guardare su Su Youtube Il primo video di Iceborne Perché sto facendo la serie di Eccolo qua E' di due settimane fa Il primo video di Iceborne E' già oltre La storia di Iceborne Si Tutti i giocatori di Lux Devono svegliarsi freddi Minchia Lux E' veramente Una rottura di cazzo Demacia Vaffanculo Infatti E' molto molto meglio Quando la metti Versione fatina Verde Che quando lancia La ulti fa demente C'è solo Insomma C'è solo una skin di Lux Che bisogna usare Ed è Commando No donna Che orrore Sì Mamma mia Che Come commando Garen Commando Xin Zhao E commando Jarvan Mamma mia Qualcosa che faccia Un po' meno vomitare Non c'è Guardiano in pigiama Magari Non nominare Quella roba Mollami Avete qualche Temprato da fare Sì Volendo Se è grado maestro Uno Posso farlo Allora A te serve Qualche mostro In particolare Sì ma Tutta roba Di basso grado Per Non credo Possa farli Guardiamo No non puoi farli Non puoi farli Però io Di temprati Taglie Ne ho C'è un Lava Un Lava Ziott Temprato Gli eventi No ma Andiamo Andiamo di taglie Così almeno inizio A farmare gemme Allora Nuova missione C'è un Behemoth Temprato Mai Non Non credo Non credo Allora Aspetta che vado a vedere Alto grado Tu sei livello 16 Allora 16 16 Vediamo un po' Che abbiamo Allora Ci abbiamo Un bel Ah minchia Odogaro Nel livello 2 Davvero Abbiamo Abbiamo Ma queste due giocatori Abbiamo Un Paolo Ah c'è un Tobi Kadaci Guarda Ti va? Sì Uno svenimento Quindi Ocho Un codica Vado un attimo La forza A vedere se posso fare Una bella spada Del Per la luce Del nero gigante Allora Il Tobi Kadaci Dovrebbe essere Ghiaccio O acqua Non mi ricordo Mi sembra acqua Bello Bello Dogaro Un ghiaccio Mi sa No Non ancora Almeno Acqua Ti sta sulle balle? La glaciale Eh Il cusciale Ha rotto Il cazzo Ma Si Si può anche Ovviare Il problema Però sai La resistenza Si Basta tirarli Nel momento giusto No No Doc Doc Ho ciò Quello che scrivi Che ti Spenno Cazzo Ti Spenno Maledetto Le trappole Me le porto Le trappole Me le porto Io ho pubblicato Eh signore Quando volete Uh Ho visto Un punto esclamativo Alla forgia? No? Me lo son sognato? Ma Giuro che l'ho visto Un punto esclamativo Ma Cattura Ah è cattura? Uno svenimento Ok Va bene Accampamento Undici Mi giro Una siga Io dopo di questa Vado a fare Il caffè Ma infatti Sai che stavo pensando Oddio Giuppo Si? Che dici Per te è un problema Se dopo di questa Ci fermiamo un po' No perché dovrebbe No Chiedevo Che magari Ci mancherebbe Ci fermiamo un po' Ci riposiamo un po' E riprendiamo poi Oggi pomeriggio Si si Che bello il caffè Pur in carcere Lo sanno va Ok Che sono belle Tre ore Di nuovo Di live Che niente Rispetto a quello Che streamo di solito Dodici ore Tredici Quando mi sveglio Da quando mi sveglio A quando vado a dormire Solitamente Don Raffae Nulla? No Mi spiace Non so chi sia Don Raffae La canzone Ah che bello caffè Non la conosco Non la conobi I'm so sorry È quella che stavi Canticchiando Eh sì No Più che altro Stavo leggendo in chat Cosa aveva scritto Doc Non Non è che la stavo cantando La madonna Capito Lo devi bere Non è che lo devi aspirare La sigaretta Guidato di traverso il fumo Però aspetta Che questo è un appiglio Della merda Un appiglio Della merda Eccolo il tovi Guarda che bello Che è temprato Mannaggia Per Raffae Bravissimo Continua a urlare Sei bellissimo Tobi Ma perché devi urlare Dov'è Ma dove cazzo è andato Oh 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 Merda Aspetta 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 Merda Dov'è andato Che da ne fa Nullback Nullback Eh a Tarzan Eh l'hai sentita eh Porca troia Dov'è? Dov'è andata? Eh guarda dov'è Oh non riesco a provarcare Sono io Cavalchi? Aspetta che mi prendo i roccioli Occhio che c'è qualcuno picchiato il paralì Il pararospo Oh sì Merda Oh occhio che dobbiamo fatturarlo eh Ricordatevelo Oddio se è torno a me Vai giù Come basta Eh sta marenda Metto la trappola Oh e metti la sta trappola Puff Eeeh puff Ciao Nutella Come è Nutella? Il Topicatachi Supremo? Eh sì Direttamente da Da Dragon Ball Vai Ci stiamo compenetrando Con pena Tra me Grazie Nutella Sei arrivato In fase di chiusura Praticamente Riprendo poi Più dopo Vediamo un po' Se c'è qualcuno On e anche Line Per fargli un bel raidino Nessuno che conosco Fondamentalmente C'è Sabaku Su Wulong Mi han detto che È una cagata pazzesca Così mi han detto Cioè Prima di sentire questa versione Mi dicevano che era Il gioco Do Mamma mia Il più difficile del mondo Poi mi han detto Mi è stato detto addirittura Da uno Che non è che sia bravissimo In quel genere di giochi Ma ha detto Che è una cagata pazzesca Raida Sabaku? Raida Sabaku Raida Sabaku Ma veramente ragazzi? Raidiamo Sabacchio? Va bene Raidiamo Sabacchio Con sette persone Così Dici che ti ringrazierà? Non se ne accorgerà nemmeno ragazzi Beh Il sette è il numero perfetto Attenzione che si sta per partire amici Quando il mio pc me lo permette Dai signor Ci sentiamo Più dopo ragazzi Mi raccomando Mettete il follow a Sabaku Aspetta che sta con la live Ecco